Ciao, sono Giulia Citterio, numero 4, questo è il mio primo anno ad Albese e sono una schiacciatrice. E saluta i tuoi tifosi, i tuoi nuovi tifosi Giulia. Ciao a tutti i tifosi, vi aspettiamo numerosi in palestra a sostenerci. Qual è il soprannome? C'è un soprannome? Citte, beh da ormai tantissimi anni che Citterio, Citte diventa... Studentessa? Studentessa di farmacia, quarto anno. Sogni di? Sogni di aprire una farmacia possibilmente, poi vedremo. Tra un po' non subito. Sì, no, tra un po'. Vedremo come vanno le cose. Giulia, è superstiziosa? Sì, ma non particolarmente. Quindi non ci sono dei rinti scaramantici? No, no. Cosa ti carica in modo particolare? Vabbè, il fatto di avere comunque il fidanzato sugli spalti, la famiglia, tutto quanto, e poi una buona musica pre-partita... Tipo? Cantante preferito? Non c'è uno in particolare, i gruppi stranieri mi fanno impazzire, c'è Green Day, Coldplay, c'è un sacco di gruppi stranieri. Se ti chiedo, Renzi, Salvini o Grillo, chi scegli? Mi ho avuto sotto un ponte. Va bene, perfetto. Attore preferito, ce n'è uno particolare, quale genere ami soprattutto al cinema? Più che altro azioni, cioè io i film strappalacrime non fanno per me azioni, quindi attori, nessuno in particolare. Finanzata quindi l'hai detto, sogno di cassetto? A parte aprire una farmacia, se devo parlare in ambito pallavolistico, fare una promozione, direi, non so superstiziosa, quindi non mi tocco, però sarebbe quello. In bocca al lupo. Grazie Giulia. Ciao.